Sì, da quel 13 di marzo le elezioni per il nuovo Consiglio metropolitano. Sì, questa è un'occasione importantissima, è chiaro che c'è stato questo spostamento che è stato richiesto da tutte le forze politiche perché chiaramente la pandemia ha inciso sull'organizzazione delle liste, c'è il tema della raccolta delle firme, quindi questo piccolo slittamento è stato necessario per garantire la massima partecipazione possibile, anche la massima organizzazione possibile, la migliore organizzazione possibile. La 22 di marzo con tante esigenze, è importante, sì, è molto importante, noi adesso già stiamo operando su quelli che sono i bandi per la trasformazione urbana, l'area metropolitana è una cosa molto importante, Napoli ha bisogno della sua area metropolitana perché ha una forte interazione e della sua forza, ovviamente anche l'area metropolitana ha il punto di riferimento nella sua città di riferimento, la sua città capoluogo che è Napoli, quindi noi dobbiamo lavorare su una migliore integrazione anche perché la qualità dei servizi, soprattutto riguardiamo i trasporti, strade, servizi ambientali, sono strettamente interconnesse, quindi noi abbiamo la necessità di un buon governo dell'area metropolitana e anche degli investimenti giusti nell'area metropolitana.